Comunica con noi per i tuoi messaggi vocali su WhatsApp 339-7288-862 Su Radio Reporter Rosa Nero, sei l'amore vero Speciale Reporter, conduce in studio Filippo Virzi Speciale Reporter Rosa Nero Benvenuti all'ascolto di Speciale Reporter Rosa Nero In studio per voi Filippo Virzi Appuntamento dedicato al Palermo Calcio In onda dalla nostra frequenza geolocalizzata 98-100 in frequenza modulata per Palermo e provincia E streaming in tutto il mondo oppure in mobilità Scaricando l'applicativo gratuito Per interviste e interventi potete contattarci L'indirizzo di posta elettronica dedicata Radio Reporter 98 Palermo Chiocciola gmail.com Abbiamo fatto un lavoro importante l'anno scorso Con grandi cambiamenti Vogliamo dare continuità quest'anno Alzando anche il livello della rosa E di conseguenza sappiamo cosa vuol dire Rappresentare questa maglia L'ambizione che tutti abbiamo La volontà di fare cose importanti Passa attraverso la superare qualche sofferenza Qualche difficoltà Stare dentro la partita Speciale Reporter A cura di Filippo Virzi Ciao Filippo Sono Ezio Bellavia Secondo me Rinauto e Bigon Hanno finora fatto un mercato soddisfacente Ma non da squadra ammazzacampionato L'organico lo ritengo ancora abbastanza incompleto Visto che mancano un terzino Un centrocampista E sicuramente ancora un'ala Adesso che siamo quasi un buon organico Sta a Corini farlo diventare una buona squadra Dai primi giorni di ritiro Il modulo sembra che sia il 4-3-3 Quindi sicuramente manca ancora un terzino sinistro E io ritengo che manchi pure un vice Stulac Perché non so se possiamo fidarci della sua tenuta fisica Manca quindi soprattutto un Bellardinelli E poi infine manca un uomo di fantasia Qualui che gli permetterebbe di cambiare modulo In qualsiasi istante E poter passare quindi a un 4-3-1-2 Uomini come Tremolada o Tramoni del Pisa Spesso l'abbiamo fatto l'anno scorso In un campionato complicato Quest'anno il nostro obiettivo è sicuramente diverso E attraverso queste partite Consolidiamo una mentalità che stiamo ricercando E vogliamo migliorare il più possibile Speciale reporter a cura di Filippo Virzi Ciao a tutti Mi chiamo Filippo Baiamonte Sono un tifosissimo del Palermo Tifo solo Palermo E volevo ringraziare Filippo Virzi E il radio reporter per questa opportunità E volevo dire che purtroppo non sono un abbonato Non mi posso abbonare per quest'anno Per vari motivi E volevo esprimere la mia opinione sul Palermo Che è una grande squadra Per me quest'anno ci faranno divertire E anche se non sono abbonato Poi alle prime occasioni correrò subito allo Stato Insieme al mio figlio Come abbiamo fatto sempre Abbiamo una bella squadra Quello che consiglio al popolo rosanero Di non criticare né Corini I primi errori né i giocatori Perché come ben sappiamo Ci sono stati giocatori che poi hanno fatto la storia del Palermo All'inizio non erano fortissimi Tipo Cavani o altro Forza Palermo sempre Speciale reporter A cura di Filippo Virzi Rinaldo ha lavorato molto bene Sino adesso E c'è la volontà di mettere dentro ancora qualcosa Vogliamo alzare sempre di più il livello Noi abbiamo la voglia di essere protagonisti Mi fa ridere Chi pensa che dobbiamo esserlo sono noi Io penso che saremo in otto o nove squadre A lottare per qualcosa di importante Noi vogliamo ritagliarci il nostro spazio E sapendo che stiamo facendo un ottimo lavoro Sono molto contento del per ritiro Di queste due settimane di lavoro Adesso riposeremo dopo il lavoro di domani mattina Di scarico che faremo insieme Un paio di giorni Saremo pronti tra Spiazzo e Pinzola A continuare la nostra preparazione E farci trovare al meglio possibile All'inizio del campionato Sappiamo che non possiamo fare 90 minuti Però mi piace quando la squadra pressa alta Recupera alta E abbiamo fatto dei gol Facendo questo tipo di lavoro Ci stiamo lavorando Alzando il livello dei giocatori Avendo creato una base per me importante l'anno scorso Il lavoro prosegue Si consolida E questo ci aiuterà A alzare il nostro livello E essere competitivi Per qualcosa che vogliamo raggiungere Sono Ignazio D'Angelo Del gruppo Io di Fosola Palermo E' un complimento per questa nuova trasmissione I tifosi Lo zoccolo duro Siamo soddisfatti della campagna Questi che hanno fatto Sino a questo momento Sino adesso A prescindere Noi ci saremmo abbonati E ci abboniamo sempre E comunque Dico Ma non è questo Andrò a rinnovare il mio posto in Curva Nord Di mio e di mio figlio Speriamo che quest'anno faccia un bellissimo campionato E dai bocca al lupo Per i nostri bellissimi colori Ciao un abbraccio E buona giornata Comunica con noi Per i tuoi messaggi vocali su Whatsapp 339-7288-862 Noi abbiamo la voglia di essere protagonisti Mi fa ridere chi pensa che dobbiamo esserlo solo noi Io penso che saremo in 8-9 squadra A lottare per qualcosa di importante Noi vogliamo ritagliarci il nostro spazio E sapendo che stiamo facendo un ottimo lavoro Sono molto contento del perritiro Di queste due settimane di lavoro Siamo pronti tra Spiazzo e Pinzola A continuare la nostra preparazione E farci trovare al meglio possibile All'inizio del campionato Sappiamo che non possiamo farlo a 90 minuti Però mi piace quando la squadra pressa alta Recupera alta E abbiamo fatto dei gol facendo questo tipo di lavoro Ci stiamo lavorando Alzando il livello dei giocatori Avendo creato una base per me importante l'anno scorso Il lavoro prosegue, si consolida E questo ci aiuterà ad alzare il nostro livello E essere competitivi per qualcosa che vogliamo raggiungere Speciale Report A cura di Filippo Virzi Ciao Filippo Grazie per lo spazio che stai dedicando a me In questo momento E ai ragazzi del gruppo Io Tifo Solo Palermo In bocca al lupo per la trasmissione che sta per partire Per quanto riguarda il Palermo Io rinnoverò sicuramente l'abbonamento Indipendentemente da quello che la società farà sul mercato Per me l'attaccamento vale di più di ogni cosa Quindi a scatola chiusa Diciamo rinnovo sempre l'abbonamento Devo dire che sono molto contento Perché quello che mancava l'anno scorso La personalità della squadra La stanno ampiamente Potenziando Attraverso giocatori di grande carisma Penso a Ducioni A Ceccaroni Che erano capitani delle loro squadre Quindi c'è tanta personalità Corini dovrà essere bravo A cercare di trovare un equilibrio Da tutti questi giocatori Con tanta 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 esperienza E appunto personalità Io volevo soffermarmi anche sul fatto che Sul fatto che la società Ha comunque una struttura già solida Da Serie A Sono arrivati tantissime figure Dalla nutrizionista A Bovo per esempio Che si occuperà della parte difensiva Insomma stiamo crescendo a dismisura L'anno scorso l'obiettivo principale Era quello del consolidamento E di fare il centro sportivo Che è praticamente quasi concluso Quindi piena fiducia in questa società Inviterei tutti A mettere un po' da parte Quelli che erano L'anno scorso i dubbi Che avevamo su Corini Il primo io avevo Diciamo non sono stato contento Del gioco che la squadra esprimeva Però ripartiamo da zero Diamo fiducia Il campo dirà come sempre La sua e la verità La società sa benissimo Quello che deve fare E cercare di criticare All'inizio il meno possibile E valutare comunque È bene dei giudizi Solo quando li vediamo sul campo Speciale reporter A cura di Filippo Birzi Sono partite per campionato Bisogna andare dentro le cose Valutare tante cose Vedere soprattutto la mentalità La forza Stare dentro questo caldo La voglia di andare a pareggiare Con la squadra di Serie A Questo per me è molto importante Penso che abbiamo Una rosa di sette centrocampisti Lo dimostra Samuele Damiani Che è entrato Ha fatto il vertice Poi per adattare un giocatore Ha dovuto spostarlo a destra C'è grande partecipazione Come dico il livello si è alzato Dunque ognuno deve ritagliarsi uno spazio Dare il meglio Siamo contenti che Leo abbia recuperato Dopo sette mesi Il primo tempo di una partita Non ufficiale Ma insomma di un amichevole Di consapevole Siamo molto felici per lui Anche dal punto di vista mentale Perché so cosa vuol dire Stare fuori per lungo tempo Dunque è un recupero importante Abbiamo trasmesso speciale reporter A condotto in studio Filippo Viezzì Speciale reporter Rosa Nero Eccoci in dirittura Ad arrivo Si conclude l'appuntamento Dedicato al calcio Speciale reporter Rosa Nero Continuate a scriverci All'indirizzo di posta elettronica Dedicata Radio reporter 98 Palermo Chiocciola Gmail Per i vostri suggerimenti E anche per avervi ospiti In trasmissione E a seguirci Dalla nostra frequenza Geolocalizzata 9800 per Palermo e Provincia In FM E streaming in tutto il mondo Oppure in mobilità Schericando l'app gratuita Da Filippo Virzi È tutto E risentirci al prossimo appuntamento Con le nostre interviste Non mancate Comunica con noi Radio reporter Per te Che sai scegliere Per i tuoi messaggi vocali Su Whatsapp 339 72 88 862